Con questo tutorial vedremo come crearci un account sul sito EPUB Editor. Lanciamo un browser, per esempio Google Chrome. Digitiamo nella barra degli indirizzi epabeditor.it Dalla schermata, in alto a destra, selezioniamo la voce Registrati. Sono presenti diverse opzioni. Noi possiamo accedere direttamente con il proprio account Facebook o con quello di Google. Oppure possiamo compilare il seguente modulo. Digitiamo il nostro nome, cognome e il proprio indirizzo e-mail. Scegliamo il tipo di sottoscrizione, quella gratuita. Accettiamo i termini e le condizioni contrattuali, aderiamo all'informativa sulla privacy e inviamo. Le credenziali di accesso sono state inviate alla propria e-mail. Quindi chiudiamo, consultiamo la nostra e-mail per visualizzare naturalmente la password che ci è stata assegnata. Grazie. Grazie.